La domanda ovviamente è ampia e non può che partire dalla situazione in cui siamo, l'emergenza pandemica, perché ci ha mostrato ancora una volta come la dimensione internazionale sia strettamente correlata a quella nazionale. Ha messo in luce come cooperazione e multilateralismo siano indispensabili per affrontare sfide globali come l'accesso e la tutela dei beni pubblici globali, la salute, i cambiamenti climatici, il terrorismo, le migrazioni, in definitiva la sfida di uno sviluppo equo, condiviso e sostenibile. Non è un caso che l'Italia sia stata tra i primi paesi al mondo a chiedere di formare un'alleanza internazionale per la risposta sanitaria al Covid-19, a porre al centro dell'agenda multilaterale l'individuazione di soluzioni incentrate sulla persona, sui suoi diritti fondamentali.